Siamo arrivati alla conclusione del libro del Deuteronomio e penso che sia importante ormai fare il punto della situazione, come abbiamo fatto per il libro della Genesi e come abbiamo fatto per il libro dell'Esodo. Ci fermiamo un attimo rispetto ai nostri normali incontri e direi facciamo una sintesi di quanto abbiamo affrontato finora. Con il libro del Deuteronomio si conclude quel grande blocco di libri della Bibbia e questo blocco vale sia per la Bibbia ebraica sia per la Bibbia cristiana, il blocco del Pentateuco. Pentateuco vuol dire cinque libri, Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio. Sono cinque libri che costituiscono una sezione importantissima, una sezione a sé di tutta la Bibbia. Da dove iniziano e dove finiscono questi libri? L'inizio, la prima pagina della Genesi è il racconto della creazione, l'ultima pagina del Deuteronomio è la morte di Mosè, Mosè che muore prima di arrivare e di entrare nella terra promessa. Cosa succede? in mezzo a questi due estremi, che sono l'inizio e la fine del blocco del Pentateuco, diverse vicende. Dio ha creato il mondo per amore, Dio ha creato l'umanità come culmine della creazione, ha creato l'uomo e la donna liberi, come dimensioni della loro libertà abbiamo visto la spiritualità, la creazione, la creatività, l'intelligenza e così via. Dopo aver creato l'umanità e aver guidato i primi passi della storia del mondo, dice la Bibbia, Dio ha scelto una persona, Abramo, con cui ha stabilito un'alleanza, un'alleanza che nasce con una persona e con la sua famiglia. La storia di Abramo continua nella storia di Isacco e di Giacobbe, cioè abbiamo seguito nel libro della Genesi la vicenda dei patriarchi. Nonostante non siano in tutto e per tutto dei santi queste persone, nonostante i loro limiti, sono stati però accompagnati da Dio nelle vicende della loro vita. Dopo la figura di Giacobbe abbiamo visto in particolare uno dei figli di Giacobbe, Giuseppe. Giuseppe che sarà venduto come schiavo in Egitto e pur in una situazione davvero complicata e che sembra senza via d'uscita, Giuseppe attraverso e grazie all'intervento di Dio, alla providenza di Dio, potrà risalire la china e diventare una persona importantissima, salverà l'Egitto e salverà anche la sua famiglia. Con la vicenda di Giuseppe vediamo che il popolo di Israele scende in Egitto e qui prospera, fino a che molti anni dopo sorge un faraone che non conosceva la grandezza di Giuseppe, tutte le sue opere a favore dell'Egitto, un faraone che ha piuttosto paura degli ebrei che nel frattempo si sono moltiplicati e decide di sbarazzarsi di loro, decide di eliminarli. Rispetto a questo progetto omicida del faraone Dio fa sorgere nella figura di Mosè il liberatore del popolo e questa liberazione avviene, e la Bibbia lo sottolinea, non per merito dell'uomo, nemmeno per merito di Mosè, ma per merito di Dio, dei suoi interventi miracolosi. Penso solo alle piaghe d'Egitto e al passaggio del Mar Rosso, qualcosa di miracoloso che non si può spiegare semplicemente attraverso la forza, la bravura o la fortuna del popolo di Israele. Questo popolo era schiavo in Egitto e Dio attraverso la fuga dall'Egitto lo rende libero. Il popolo dovrà ora attraversare il deserto e la traversata del deserto occupa 40 anni nel racconto della Bibbia, 40 anni non perché il tragitto in effetti dovesse durare 40 anni, ma per una sorta di punizione, visto che il popolo liberato nel deserto dimentica la bontà di Dio e mette in discussione la stessa provvidenza di Dio. Tante volte il popolo si lamenta contro Dio, contro Mosè, contro le guide del popolo e dice ma dove ci avete portati? Ci avete fatti uscire dalla schiavitù e questo è bello, ma ci avete reso la vita peggiore di prima. Magari potessimo tornare alla schiavitù dell'Egitto. Allora Dio decide che per questa e altre debolezze del popolo bisogna purificare il popolo, bisogna prepararlo e fargli capire che non ci si comporta così e quindi saranno 40 anni nel deserto, gli anni anche di fatica che il popolo dovrà trascorrere prima di poter entrare nella terra promessa. Un momento importantissimo nel deserto è l'alleanza sul monte Sinai e infatti abbiamo visto attraversando la lettura del libro dell'Esodo come tante pagine della Bibbia siano proprio dedicate all'alleanza sul monte Sinai e al dono della legge. La legge è quella garanzia per Israele che è stato appena liberato da Dio di continuare ad essere libero. Infatti è una legge per la vita che permette agli uomini non di spadroneggiare gli uni sugli altri ma di rispettarsi, di avere mille attenzioni verso i nostri fratelli e le nostre sorelle senza perdere mai di vista la dimensione della relazione con Dio. È una legge importantissima e la Bibbia sottolinea, sottolinea che proprio nell'esperienza di liberazione dall'Egitto Dio concluse un'alleanza con il popolo di Israele che non è più l'alleanza stabilita con Abramo, con Isacco, con Giacobbe, cioè con delle persone, con delle famiglie ma è l'alleanza stabilita con un intero popolo ed è importantissimo che in questa alleanza venga inserita anche la legge, la dimensione della legge attraverso i comandamenti e attraverso altre leggi che Dio dona. Abbiamo visto poi come dopo la sosta sul monte Sinai il popolo riprende il cammino attraverso tante tappe, attraverso tante lamentele difficoltà, il popolo però ormai è arrivato alle soglie della terra promessa. Qui però Mosè morirà prima di entrare nella terra promessa. Il Deuteronomio si conclude con la morte di Mosè, con la nomina di Giosuè come degno successore di Mosè e la nostra domanda è cosa succederà adesso? Ci sarà nei prossimi libri della Bibbia il racconto dell'ingresso nella terra promessa, ma ripeto ancora una volta nel blocco iniziale della Bibbia non siamo arrivati ancora all'entrata nella terra promessa. Abbiamo visto finora quali sono i contenuti di questo blocco del Pentateuco, quale è la vicenda che viene raccontata. Vorrei ora soffermarmi un paio di minuti sulle grandi tematiche presenti in questi libri della Bibbia. Solo alcune possono essere affrontate, le altre le abbiamo viste più in dettaglio puntata per puntata, incontro per incontro. Il tema della creazione ci dice che questo mondo è opera di Dio, che Dio ha creato per amore e ha posto l'uomo e la donna al vertice della creazione, non per spadroneggiare o per calpestare la creazione, ma per essere giardinieri del cosmo, per prenderci cura del cosmo. E questo tema ecologico è un tema molto sentito nei nostri giorni, pensiamo solo alle parole di Papa Francesco e anche al suo documento, Laudato Si. Il tema ecologico è prenderci cura del mondo intorno a noi, una responsabilità collettiva che certamente cozza contro l'individualismo imperante e quella mentalità secondo cui ognuno può fare quello che vuole e può realizzare se stesso anche a scapito degli altri. Un altro tema bellissimo del Pentateuco è questo ruolo dell'umanità, il rapporto tra uomo e donna all'insegna della creatività, dell'intelligenza, della spiritualità, all'insegna del rispetto reciproco. Un altro tema molto bello è il tema della fratellanza. Abbiamo visto attraversando le vicende di Abramo, Isacco e Giacobbe come le famiglie dei patriarchi non siano famiglie candide, limpide, ma ci siano in queste famiglie molte tensioni, molte chiusure, propositi di vendetta e ostilità. Insomma la Bibbia ci dice che la fratellanza non è mai data per scontata, ma è una fratellanza che si guadagna, che si acquisisce con fatica, anche con le lacrime. Pensate all'inizio, Caino uccide Abele, è proprio un inizio molto duro rispetto al trattare il tema della fratellanza, però alla fine del libro della Genesi Giuseppe si riconcilia con i suoi fratelli. Vedete il percorso che è stato fatto, davvero qualcosa di bello che ci indica la possibilità, per quanto magari sia faticoso, di vivere rapporti riconciliati tra fratelli e all'interno delle nostre famiglie. Un altro tema a mio parere davvero molto importante riguarda lo scontro tra Dio e il Faraone, non semplicemente tra questi due personaggi che compaiono nel libro dell'Esodo, ma è tra i modelli di vita che sono legati a Dio e i modelli di vita che sono legati allo stile del Faraone. Il Faraone vuole comandare su tutto il mondo, calpesta le persone, il Faraone è l'ideologia imperante, potremmo dire oggi il Faraone è ciò che è di moda, è ciò che vuole eliminare gli scarti, i cosiddetti scarti. Dio invece è un Dio liberatore, che si prende cura anche dei più deboli, di coloro che sono maltrattati, di coloro che sono considerati degli scarti, delle spazzature. Dio si prende cura di loro e manifesta al Faraone che è lui il vero signore della storia e non i potenti di turno, che calpestano gli altri e si servono degli altri. Dio invece non si serve degli altri, ma Dio serve gli altri, lo vedremo nel modo più bello nella vicenda di Gesù. Fatto sta che Dio suscita Mosè come liberatore del popolo e in effetti questo popolo sarà liberato. La libertà però che Dio ha conquistato a così caro prezzo, i portenti d'Egitto, il passaggio del Mar Rosso, è una libertà che giorno dopo giorno va mantenuta e va garantita. Ecco allora l'altro grande tema del Pentateuco, il dono della legge. È una legge per la vita dell'uomo, non è una legge che rovina le giornate degli uomini, ma i comandamenti vogliono essere una legge di libertà. Abbiamo visto come i comandamenti in fondo non dicano cosa bisogna fare, ma dicano quali sono i punti di non ritorno, cioè cosa non bisogna fare. Dio affida poi alla intelligenza dell'uomo, alla sua creatività, il bene che c'è da fare e c'è tanto bene da fare nel nostro mondo. Vorrei però ora farvi fare un passo in avanti rispetto a una semplice disanima degli episodi e dei contenuti del Pentateuco. La cosa che dovrebbe subito balzare agli occhi come una stranezza è questo fatto. Mosè, il più grande personaggio della Bibbia ebraica, muore prima di entrare nella terra promessa. Il suo compito era quello di condurre Israele nella terra promessa e Mosè lo sta svolgendo, lo ha svolto bene. Ma com'è possibile che il più grande personaggio del mondo ebraico non sia entrato anche lui nella terra promessa? Questo davvero è qualcosa che potrebbe scandalizzare. Come mai, se questo è il blocco per la Bibbia ebraica più importante di libri, non si racconta dell'entrata nella terra promessa? C'è un motivo molto importante. C'è un motivo molto importante che dipende dal fatto che queste pagine che noi troviamo fisicamente all'inizio della Bibbia, in realtà non sono state le prime pagine scritte, ma generalmente sono le ultime pagine che sono state scritte. E cioè sono state scritte quando ormai il popolo di Israele aveva alle spalle molti secoli di storia, di vicende felici, di vicende tristi e poteva col senno di poi riraccontarsi le vicende delle origini. Il popolo di Israele, quando ha scritto queste pagine della Bibbia, era un popolo che di fatto non aveva più una monarchia, era senza re e possiamo anche dire che fosse un popolo che ormai era senza terra e cioè il suo territorio era posseduto dai grandi imperi di quel tempo. Israele insomma poteva sì vivere nella Palestina, ma il territorio non era più suo, era in fondo un popolo suddito di altri imperi molto più grandi di Israele e non aveva più naturalmente una monarchia, perché l'unico re era il sovrano di questi imperi. Parlo dell'impero persiano, parlo poi dei regni sorti dalla vicenda di Alessandro Magno. Quindi un popolo che si trova a vivere senza re e di fatto senza terra, prova a rileggere la sua vicenda e si rende conto che per esistere come popolo di Israele non serve possedere una terra, non serve avere una monarchia. Quello che invece è importante possedere ed è quello che rimane detto e scritto nel Pentateuco è l'alleanza con Dio, la consapevolezza di essere il popolo eletto da Dio, di essere oggetto di un amore da parte di Dio, di essere un popolo che è stato liberato, quindi di essere una nazione che è libera al di là delle vicissitudini della storia e spesso Israele ha vissuto in difficoltà, di un popolo che per rimanere popolo insomma ha bisogno solamente di riconoscersi nell'alleanza con Dio e di riconoscere che c'è una legge che regola la vita del popolo e la relazione con Dio. Per questo motivo Israele ha capito che la conquista della terra promessa e la presenza della monarchia non sono costitutivi della sua dimensione, della sua esistenza. Israele è vissuto senza di essi per tanto tempo, senza terra e senza monarchia e ci insegna direi a renderci conto di ciò che davvero è essenziale e di ciò che non è essenziale nella nostra vita. Per Israele, questa lezione molto bella, essenziale è riconoscersi amati da Dio, creati da Dio, in alleanza con Dio e di riconoscere che la legge donata da Dio è una legge per la vita. Vedremo nei prossimi libri lo svolgerci delle vicende però è importante dire che la conquista della terra promessa che vedremo tra poco non fa parte del blocco centrale e più importante della Bibbia ebraica, è qualcosa direi di secondario. C'è stato questo possesso della terra ma c'è stata anche la sconfitta e la perdita della terra ma non è questo importante per l'identità ebraica. Grazie a tutti.